Con Acqua, il singolo che racconta tutte le sensazioni assorbite durante il percorso di lavorazione, Fabrizio Moro ha anticipato l'uscita del suo nuovo album, Via delle Girando le Dieci, pubblicato il 17 marzo prende il nome da una delle vie percorse dal cantautore durante la fase di produzione. È un disco che cerca di avvicinarsi alla personalità, alla magia sonora e allo stato d'animo degli album con cui Moro è cresciuto, di artisti come Battisti, Venditti, Zero e Dalla. Il cantautore romano, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007, nella sezione Giovani, con il brano Pensa, ha cominciato da Bari il tour promozionale. Ieri sera Fabrizio Moro ha incontrato il fan nella libreria Feltinelli di Bari. Nonostante fosse febbricitante, non si è sottratto al bagno di folla, firmando i cd ed esibendosi in una piccola performance acustica nella quale ha eseguito alcuni brani di questo suo ottavo album. L'influenza che ha colpito il cantante mette a rischio però il concerto di questa sera al Teatro Palazzo di Bari, il primo del suo nuovo tour del Girandole, con cui Fabrizio Moro farà tappa in tutta Italia, esibendosi nei teatri e proponendo accanto ai brani del nuovo lavoro anche le riletture dei suoi pezzi più famosi.